Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del giorno dopo barra pagellone di Napoli-Juve 1-0 finale di Supercoppa la Juve porta a casa la Coppa e a me quando mi passa, cioè giorno dopo è amarissimo, cioè la delusione di ieri che ho messo nel titolo continua, continua anche oggi perché io non riesco a capacitarmi che questo Napoli ha dimostrato di essere mentalmente debole, caratterialmente mentalmente debole, debole io sottolineo quanto ho detto ieri, la Juve ha meritato, ma non è che la Juve ci ha surclassato sul piano di gioco, sul piano delle occasioni perché alla fine è stata una partita in cui entrambe le squadre avevano paura di perdere, nessuna delle due si è scoperta è stata una partita molto molto tattica e sarebbe stata la classica partita in cui si sarebbe sbloccata con un episodio l'episodio c'è stato dalla parte del Napoli, allora dalla parte del Juve, io ero sicurissimo che non avrebbe fatto la seconda sconfitta con se doveva o quantomeno non avrebbe fatto una seconda prestazione dopo Milano di merda perché la Juve difficilmente sbaglia due partite consecutive, si sa, è da anni, è nel loro DNA questo ma appunto per questo io mi aspettavo un Napoli più preparato, un Napoli più mentalmente in partita, mentalmente cattivo io non voglio minimamente pensare che Gattuso l'abbia preparata guardando la Juve contro l'Inter anche perché ne dubito, perché lui è stato il primo, ha detto se la Juve è quella del Milano avete sbagliato perché la Juve è pur sempre una grande squadra, lui l'ha detto, ha detto una cosa del genere ma l'ha detto però mi ha dato questa impressione, cioè tu questa Juve che è una Juve rispetto agli anni scorsi battibile battibile, voglio è battibile, ma gli hai regalata tu la Supercoppa, il Napoli ha giocato non da Napoli ha giocato impaurito, ha giocato con la paura addosso, cioè ogni volta che qualcuno aveva il pallone boom, subito allontaniamo la palla invece di giocarla soprattutto da Goulibaly che cazzo hai 29 anni e spazia ancora la palla invece di avere un minimo di personalità di giocarla Goulibaly, un minimo, gli abbiamo regalato a noi la Supercoppa, poi la Juve va meritato perché ha giocato meglio dal punto di vista dell'aggressività, del possesso palla e poi è stata cinica nel momento giusto questo è un Napoli, aveva il pallone lungo, aveva il pallone lungo, aveva il pallone lungo una minima giocata, minima, puoi uscire dalla difesa, non c'è stata, zero, troppa paura ci siamo cagati sotto, ci siamo cagati sotto, questa è l'emblema, questa è la fotografia della partita di ieri ci siamo cagati sotto, punto cioè io mi aspettavo tanto da, soprattutto dai singoli ma zero, zero personalità, oh ma arocazza mai se la personalità in queste partite non si vede io sono molto del... la delusione di ieri nel video e poi non ho fatto sbraito, scassare, a parte che era tardi ma non avevo proprio genere, perché ero proprio deluso deluso, non abbiamo creato un'occasione da gol due, anzi una e mezza, Lozano, basta con Paratiscesni, poi, basta il secondo tempo, il gol, ok la Juve ci ha segnato una minima reazione minima, cioè sta, ma proprio minima ma molto confusionaria confusionaria non un seguire uno schermo confusionaria cioè un apolo per svegliarsi deve subire per farsi il gol non va così, non va così, non va così questa partita la persa Gattuso tiriamolo in ballo Gattuso io sono un pro Gattusiano ma io sono un pro Gattusiano è ovvio che in giro ci sono allenatori più bravi, più preparati che hanno più esperienza eccetera 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 ma Gattuso parlava sempre di veleno il veleno, il veleno, il veleno, i veleni i veleni, i veleni, i veleni, i veleni, i veleni i veleni, i veleni, il veleno vero Ach whether youорд Ach whether you're Ad служ questo non si è visto in veleno, zero, io più che il risultato in sé, mi incazzo della prestazione, ma più che incazzarmi, sono deluso, sono deluso, è una partita chiave, è una partita netta, l'avete regalata, nel secondo tempo, nel primo tempo, quasi organizzati, zero tiri da parte della Juve, uno e mezzo da parte nostra, più o meno nel secondo tempo, ci siamo un po', abbiamo giocato benino, ma nel secondo, la Juve è entrata grintosa, in Napoli stiamo ancora nei spogliatori, che poi noi diciamo, speriamo che ci riprendiamo contro il Verona, in Napoli contro il Verona potrebbe fare la partita della vita, facile, la preoccupazione sta a dopo, sta a dopo, controllo lo Spezia, contro il Parma, mi sembra, giochiamo, sta a dopo, dai, contro il Verona, adrenalina, sai, motivo d'orgoglio, dobbiamo cacciare le palle, ma finì che vinciamo, 3-0 con Verona, e poi per dimmi in casa contro lo Spezia in Coppa Italia. Per questo io dico che il Napoli è, non è continuo, per questo lo dico dal punto di vista delle prestazioni, dal punto di vista nervoso, mentale, cioè il Napoli quest'anno ci ha dimostrato che può vincere con Atalanta, Roma e Fiorentina, con gole a dei pazzeschi, meriti nostri e demeriti loro, perché in una vittoria in generale ci sta sempre il demerito e il merito, c'è sempre in mezzo, e poi partite come con Torino, come contro lo Spezia, come contro l'Inter, come contro la Lazio. Che giocato di merda, contro l'Inter, dopo il gol dell'Inter si è svegliato, ma prima del gol non ne hai fatto tantissimo. che poi ho visto, mia impressione, che ci sono due o tre elementi che del Napoli non se ne fottono proprio, non se ne fottono proprio. Gattuso deve individuare questi elementi e dire voglio, tu sei a Napoli, non puoi giocare più, bene, va in tribuna, così bisogna comportarsi. Poi ce l'avremo, vabbè, dopo parliamo di tutto. Vabbè, voglio che ammarisce, basta. Il Napoli si è cagato sotto, appunto, si è cagato sotto. L'aiuto ha meritato e speriamo nel futuro. Andiamo alle paginelle, vabbè, Ospina 6. Sul gol non poteva nulla. Ha salvato un gol praticamente quasi fatto, anche se la palla è stata colpita piano, se mi sbaglio Ronaldo, l'ha salvata sulla linea. Ma comunque, diciamo che non è stato particolarmente coinvolto Ospina. Di Lorenzo 6, striminzito. Ha giocato soprattutto il primo tempo bene in fase offensiva, difensivamente ha sofferto l'ingresso di Bernadeschi. Manolas 5. Praticamente ha regalato gol, o quasi. ha rischiato l'autogol. Ha fatto diversi appoggi fuori di capoccia. Tecnicamente è stata la sua peggior partita. Anche se ha iniziato bene la partita con un quasi gol, l'avrei restato ha giocato male. Cioè, di posizione, di atteggiamento, male. Coulibaly. Anche a lui 2-5. Io da lui mi aspettavo tanto, tantissimo, perché cazzo ha 29 anni. È una grandissima esperienza. Sei nel Napoli da parecchio. Dovresti essere uno dei leader, dovresti. Invece impaurito nell'impostazione. Altro che impreciso. impaurito. Ha giocato come se la valla scottasse. Ed è una cosa che mi ha lasciato veramente... Mamma mia. Che cazzo è? Chi se non è culibaly? Chi se io frate c'è? Mario Rui. 5 e mezzo. Parte bene. Poi, quando McKennie e Quadrado hanno avanzato un po' pressare, non ce la fa. Praticamente era sempre, costantemente, due contro uno, perché insinni a Kai si è fatto in mazzo tanto, ma non poteva andare fino alla banderina nostra. Bakayoko. Forse sono troppo serio, ma gli voglio dare quattro. Da Bakayoko io mi aspettavo fisico, mi aspettavo contrasti, mi aspettavo mentalità, mi aspettavo tutto da Bakayoko, tutto. Invece l'ho visto mollo. Cioè, dove la Juve attaccava, stava Bakayoko e puntualmente veniva superato. Troppo mollo. Stanchezza, non lo so, ma dite voi cosa ne pensate di Bakayoko, ma ha giocato male. Cioè, il centrocampo stasera ha giocato male. Non era unito il centrocampo. Se Bakayoko era il grigio, era il nero, Lozano era il bianco. Eh, Lozano, Demme. Demme. Demme sei. Ok. Demme è sfiorato il gol nel secondo tempo. Ha giocato bene. Ha bloccato diverse volte gli inserimenti di Arthur. Ma... che potevo fare? Stavo sull'is. Al centrocampo stava su lui, perché Bakayoko passeggiava. Lozano, sei e mezzo. L'unico là davanti che si è degnato di fare qualcosa. E non è solo il gol. Non solo il gol. Il gol. Magari il gol. Il colpo di testa con cross di Demme. Ma l'atteggiamento di Lozano a me mi è piaciuto. Se gli altri passeggiavano è come se se ne fottessero. Lozano almeno lottava. Lozano almeno vedeva Danilo davanti. Lo buttava a terra perché voleva prendere il pallone. Fischiava a fallo. Ma almeno ci provava. Cazzo. Vogliamo undici Lozano in campo. È quello fisicamente che sta meglio fisicamente e mentalmente. Cioè tu in una partita devi essere grintoso come Lozano dovevi essere. La palla si è allontanata. La palla era in direzione di Lozano. La palla si è allontanata. Danilo si mette davanti. Lo butti a a terra e fallo. E vabbè pacienza. Ma almeno ci ha provato. Spero che ho parlato veloce ma spero che si sia capito. Che cazzo. Zelischi. Un altro che mi ha deluso come Bacayoko. Zelischi 4. Inutile. Invisibile. A parte il do. Il. La finta. Che prima va da una direzione. Poi va dall'altra. Una vattene. Un passaggio filtrante. Non è venuto mai a chiedere il pallone. Oh in fase offensiva. Se non gira il trequartista. Non gira. Insigne. 4. 4. Hai sulla palla. Il. Hai sulla palla. Hai tra i piedi. Il pallone del pareggio. E lo sfugio. Ma questo non è colpa di insigne. Ma io vogliamo allora lo sapete il mio pensiero su insigne. Che fa partite buone. Buone da grande giocatore. E partite veramente che proprio lo manderesti e calci in culo. Ci sono tifosi che lo difendono a spada tratta. Solo perché è capitano. Solo perché è napoletano. A me me lo fotto proprio. A me me lo fotto proprio. A me interessa solo la maglia. E chi la indossa. Però su insigne. Di ieri. Ha fatto un buon lavoro di copertura. Ma in fase offensiva. Che cazzo fa? Non ha fatto niente. A parte Lozano. Che il Napoli ha attaccato molto spesso da parte di Lozano. Non ha fatto niente. Il regista offensivo. Insigne. Niente. Poi gli dà la palla del rigore. Quando insigne ha sbagliato tre rigori su tre. Quello era il terzo. Contro la Juve. Che poi si vedeva che era nervoso. Insigne. Si vedeva che era nervoso e tu lo fai dire a insigne. Ma fallo dire a Petagna. Fallo dire a Lozano. Fallo dire a Demme. Cazzo ne so. Lo fai dire a Insigne solo perché è napoletano. È capitano. Ma che me lo fotto. Ma pari già. Ma la colpa è di non 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 su classiamo Insigne per il rigore sbagliato. Ma ieri in Napoli tutto. Tutto. Tutto si è cagato sotto. Tutto. Dalla difesa. All'attacco. E poi l'attacco. È stato inconcludente. Zero. L'unico migliore è stato Lozano. Insigne. Quattro. Zielinski. Quattro. Petagna. Quattro e mezzo. Petagna. Nei grandi appuntamenti sparisce. Anche se qualcosina ha fatto. Ma Chiellini l'ha sempre sul classato. Chiellini quarant'anni tra poco. Il discorso di Petagna voglio è semplice. È una terza scelta. E lo ribadisco sempre. È una terza scelta. In Napoli avrebbe dovuto prendere una seconda scelta di valore. Di valore. Lasciando stare Osiman. Lasciando stare Osiman. Doveva prendere una seconda scelta di valore. E Mertens doveva diventare la quarta. Perché è un'ultra trentenne. Chissio del discorso. Aiù. Alla. Come titolare. Osiman. Come seconda scelta. Una bella seconda scelta. Come terza Petagna. E come quarta. Mertens. Che Mertens è una specie di jolly. Almeno così penso io. Comunque. Petagna. Nei grandi appuntamenti. Sbaglia. Poco servito. Ogni volta che doveva far giare il pallone. Sbagliava. Zero. Mertens. I subentranti. Mertens. Se è in mezzo. Si guadagna il rigore. Ma al di là di questo poco. Llorente e Politano. Senza voto. Che poi non capisco perché fagli entrare. All'ottantaquattresimo. Elmas. È entrato a sessantasettesimo. Ma è come se non fosse mai entrato. Cioè senza voto. Il Napoli con lui. Passa un 4-1. 4-1. Mauayu. 16 milioni. Elmas. 16 milioni. Ci sono ancora tifosi che lo difendono. Che è giovane. Che ha giocato in Turchia. Ha giocato in tutti i ruoli. Cazzo. Marafut. Cazzo. Elmas. È un giocatore da Cagliari. Con tutto il rispetto. Da Cagliari. Benevento. No da Napoli. No da Napoli. Cazzo. Vabbè. Io ho fatto le mie facelle. Ho detto le mie impressioni. Ovvero che il Napoli si è cagato sotto. Complimenti ancora la Juve. E non sul classio Minsigne. Che poi quell'immagine mi ha fatta pure chiangere. Un po'. L'errore. È di chi lo ha fatto tirare. È di chi gli ha dato il pallone per fargli tirare il rigore. Gattuso deve migliorare. Dal punto di vista mentale deve migliorare. Sicuro. Però voglio... Pazienza. Un altro trofeo. Un altro trofeo. Come se noi vincessimo tutti gli anni. Un trofeo che era forse un trofeo. Lo mandiamo a fanculo. Peccato. Vabbè. Ci vediamo prossimamente. Forza Napoli sempre. Mancano una settimana. Due settimane. La fede è mercato. 21 gennaio. Più o meno. Una settimana. Dieci giorni. Una fede è mercato. Ma che cazzo vuoi sperare? Che è giunto lì ogni prima della partita. Dice siamo bene così. Bello. Siamo bene così. Bene. Siamo bene così. Sì. Non rinunciamo la Champions. Tutto è possibile. Perché la classifica è corta. L'obiettivo è la Champions. Champions. Vabbè. Ci vediamo la prossima. Non so se vado in live oggi. Perché sinceramente moralmente. Sono proprio a terra. Sono proprio a terra. Ciao. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più.